un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale e della giornata con farming 22 e allora oggi continuiamo la nostra avventura la sempre sulla mappa o però in questo momento mi trovo in diretta su twitch e sono in multiplayer per cui chi volesse prendere parte alla partita basterà essere semplicemente un follower del canale poi una volta che vorrà entrare in partita ecco mi dirà il nick e gli dirò tutto quello che serve per entrare allora detto questo andiamo avanti e vediamo un pochettino cosa c'è da fare allora mietitura o queste votano armi utile allora io direi di presta oggetti perché ovviamente non ne abbiamo al momento a disposizione una macchina raccogli patate perché ci costa un bel po e dall'ultima volta che siamo stati live ho un po cercato di sistemare un pochettino la farm ma qua allora adesso ho fatto ma io ho fatto questo oggetto sbaglio ma non l'ha presa ecco tutto chiaro allora e allora facciamo accetto contratto se così di un po ma peccato perché quella era bella sostanziosa mietitura quasi ok allora campo 36 al 30 secolo la enorme ok il campo 36 è il campo più grande che al momento c'è sulla mappa quindi sarà una sfida fortunatamente però siccome abbiamo il gps qua installato sul mezzo ovviamente potremo un attimino non avere la fortuna e l'opportunità appunto di poter fare un lavoro decente quindi per sicurezza salviamo ecco qua il campo 36 ci dirigiamo subito verso il campo 36 e qui mi sa che devo abbattere forse devo togliere un alberello un albero bello aspetta il 36 è questo allora mi sa ah 36 è questo ok kk allora questo dovrebbe essere il lato dritto quindi come dice il grande rob email ci allineiamo al campo ovviamente bisogna installare la mod per la gps e poi iniziamo attiviamo il gps con alt e c e si accendono le luci adesso quelle che voi vedete sotto il mio nick nella parte testa del del schermo dove c'è il quadro la strumentazione della strumentazione poi ctrl s e attiviamo tutto quello che ci serve facciamo imposta punto a camminiamo un po ci fermiamo ctrl s imposta b e adesso abbiamo la traiettoria e quindi adesso andiamo a raccogliere del surgo ctrl x e lasciamo la guida assistita fare tutto ho dovuto rifare alcune piccole modifiche alla alla farm diciamo così al terreno quello lì che adesso riadattato per l'area industriale al momento non passego soltanto un solo campo e poi vedremo nel corso del tempo di poter andare avanti e quindi poter espanderci e approfitto ovviamente per ringraziare france 881 au france 881 merci beaucoup france 88 un po al follow grazie mille france 881 france 881 for the follow thank you so much france 881 for the follow thank you so much e non sarebbe male fra l'altro acquistare magari più la un campo di questi grossi eh sì non sarebbe male soprattutto il 36 che non è particolarmente grande quindi diciamo che con attrezzature per campi medio piccole uno riesce a fare tranquillamente il proprio lavoro ecco diciamo così passiamo 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 Allora, avena? Sì, avena, avena. Ah sì, l'avena perché si riesce a produrre molto più farina rispetto agli altri, rispetto anche all'orzo e al frometto. Me l'ha fatto notare l'amico della zappa storta nell'ultima live che è venuto a fare qui su questo campo qua, su questa piccola mappa. Grazie. 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 i campi e alla fine poi ci fa risparmiare anche l'operaio ovviamente quanto ce ne sarà bisogno ovviamente utilizzerò l'operaio del gioco però al momento diciamo che le disponibilità economiche sono quelle che sono e quindi bisogna un attimino restare sempre con il capitale inattivo e mai in passivo e ovviamente io approfitto per darvi augurare il buon inizio di settimana poi lo farò ovviamente anche nella live che aprirà ufficialmente la settimana quindi questo pomeriggio dalle 15 e 30 in poi su eurotrack simulator 2 con il format dedicato al turbostar di rav garage una mod straordinaria che ormai è un anno che sto portando in live e devo ammettere che è molto molto apprezzata e sta riscuotendo un ottimo successo ecco qua prendiamo questo e andiamo ovviamente a continuare la missione allora adesso dove che dobbiamo andarla vediamo un po dove dobbiamo andare a portarla allora allora vediamo un po allora no che ho fatto vedi tu ecco qua allora montacarichi ok quindi bisogna andare alla parte estrema della mappa perfetto allora per arrivare là potrei anche prendere la stradina qua e salire no aspetta è dall'altra parte no prendiamo una scorciatuia ah accendiamo il lampeggiante ecco qua anche se non si vede metti in moto l'avventura e cavalca tenere adesso andiamo prima a scaricare la trebbia oh no mi sono scordato che è lì meno male che non ho distrutto il raccolto sono arrivato un po' troppo lungo il sorgo il sorgo se non mi sbaglio anche le galline lo accettano se non ricordo male però lo conservo perché ci potrei fare la farina di sorgo giusto anche perché ho acquistato il mulino per grano e poi anche il forno pulino per grano ovviamente è quello lì che si trova nel gioco nelle produzioni esatto non mi veniva il termine quindi è quello lì delle produzioni e non quello lì che è già presente sulla mappa perché appunto non mi va che vendendo qualora dovessi vendere l'attività poi venga abbattuta cosa che mi è sembrato di vedere in un'altra live di un altro bravissimo streamer che se non ricordo male era miticaccio che si scrive miticacci e poi allo zero a posto della O e approfitto anche per ringraziare l'Upen 169 per il follow non ho avuto ancora il piacere se la memoria non mi inganna di averlo in live e quindi sperando che io possa ringraziarlo di nessuno poi quando sarò in live e lui verrà eventualmente se avrà un po' di tempo va a salutarci nel frattempo sto notando una cosa ma adesso poi vedremo se è così e vi spiegherò di cosa si tratta e allora cosa c'è? allora intanto devo disattivare un attimo la chat vocale qua perché così almeno oppla allora disattivo la chat vocale tanto al momento non ci sono ancora persone che insomma amici del canale che stanno venendo in live allora volevo farvi notare una cosa intanto salutiamo la partita allora a quanto pare nella parte della gps nella prima parte dove ci sono quelle tre righe ecco quelle là a quanto pare da come ho capito indica quanti passaggi sono stati fatti quindi in questo momento ne abbiamo effettuato quattro linee di lavorazione e adesso ci ho prestato attenzione quindi abbiamo scoperto anche questo quindi sapremo anche quante passate dovremo fare ad esempio per trebbiare un campo o lavorare più in generale sul campo con un attrezzo una lama o un aratro ovviamente la mod della gps al momento non è disponibile per console ma è prettamente per pc secondo me sarebbe una una gran cosa anche per gli amici su console poter utilizzare la mod del gps perché ecco come ho detto prima rende il lavoro molto più semplice e poi ovviamente permette di fare dei lavori soprattutto taratura e piantatura e seminatura molto più precisi e quindi ci permetterebbe anche permetterebbe anche a loro di risparmiare sia dal punto di vista dell'utilizzo di carburante e poi ovviamente pure un risparmio di quelle che possono essere i semi o altro tipo di materiale insomma perché deve essere può essere utilizzato per lavorare su un campo e quindi non è più 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 anche per quanto riguarda la scelta del mezzo non lo ha preferito acquistare il john deer perché al momento ha un numero di litri pare quindi sono 10.000 litri Anche se normalmente io ho sempre acquistato la New Holland, la gialla, perché diciamo che ha una capienza maggiore rispetto alla trebbia più piccola che la Deutz. Quindi io ho preso questa ma normalmente avrei acquistato la New Holland questa qua e quindi per il momento ci teniamo questa e poi niente al momento nell'usato non offre niente però questo forse mi potrebbe tornare utile. Devo vedere se mai se non mi sbaglio c'ho il non in volta fieno. Credo eh, dopo andremo a vedere un pochettino i mezzi e le attrezzature a disposizione quindi poi andrò a fare una valutazione se eventualmente acquistare volta fieno. Anche se comunque che mi ha sempre detto il mitico Jason Farm che l'attrezzatura, l'usato sull'attrezzatura è molto conveniente. E diciamo che bisogna essere anche abbastanza fortunati per trovare un mezzo che sia un trattore, una trebbia o altro in condizioni abbastanza buone. Ecco, perché come ha spiegato Jason, i mezzi quando vengono venduti e vengono rimessi nel mercato dei mezzi usati, vengono a volte svecchiati o resi meno usurati. Ecco, diciamo così, quindi c'è il sistema che ha un suo algoritmo. Ok. Andiamo a scaricare. Subito, subito qua. Puntapà, 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 ya. Ah, poi ovviamente mi sono scordato di dirvi che ho acquistato anche la Serra Grande. Almeno così, quando ci sarà il periodo in cui l'inverno ci sarà neve e tutto quanto, almeno potremmo passare un po' di tempo anche a prendere le produzioni e quindi poi iniziare a creare man mano, a produrre dolci, quindi torte oppure vendere i pomodori e quindi recuperare il tutto. La lama si sta raddrizzando, sta notando. Quanti litri è questo? Mi sono scordato. Andiamo un po'. Allora, questo è 24.000 litri, ok. Questo, questo qui mi pare che pure l'ho comprato usato, se non ricordo male. Credo di sì. Ok. E adesso sto andando con... Non con l'operaio, ma con la mod della GPS. GPS. E quindi questo campo potrebbe essere un'ottima alternativa, insomma ci potrebbe permettere di produrre un bel po' di prodotti, però... Al momento... Non ci possiamo permettere nulla. G-BEN, G-BEN, è incoraggibile. Ci siamo quasi... Ovvio, ecco, vedete? Quello che vi dicevo prima. Che... Con il GPS è tutto molto più semplice. Ovviamente si può anche decidere di non utilizzare la guida assistita. Per cui, bisognerebbe cercare di seguire la linea, ma la linea al momento non sempre è ben visibile. Come in questo caso, e quindi... L'allineamento sarebbe cosa molto, ma molto complicatuccia. L'allineamento sarebbe... Ancora buon inizio di settimana e approfitto per ringraziare voi che in questo momento mi state guardando in diretta... Qui su Twitch. E ringrazio soprattutto voi che state guardando questo video in replica su Twitch e ovviamente... Anche su YouTube. E questo video sarà disponibile su YouTube giovedì. Grazie ancora per, ovviamente, apprezzare questa serie dei fratelli Fattoria, fratelli Caponi. Che a momento non ho scritto nel titolo, ma ovviamente lo troverete... La troverete nella descrizione, ovviamente, su YouTube. E ovviamente vi invito a passare nel mio canale YouTube. E se i miei contenuti mi piacciono, vi invito come sempre a lasciare un bel follow. E ovviamente, ecco, questa pagina... Questo canale è aperto a tutti. Diciamo, soprattutto agli streamer che sono all'inizio o a coloro che volessero farsi un po' di pubblicità sono i benvenuti. Ovviamente io faccio parte di un gruppo, diciamo, di un altro bravissimo streamer che si chiama La Zappa Storta. Insieme a tanti altri bravissimi streamer che... Siamo diventati ormai come una grande famiglia. Infatti... Ehm... Siamo molto compatti. E quando possiamo ci diamo una mano a vicenda. Siamo... Siamo una vera e propria famiglia, ecco. Per cui... Ehm... Siamo solitari l'uno con l'altro. Per cui, insomma, quando c'è una mancanza di rispetto nei confronti di... Di uno di questi streamer... Ecco, noi ci sentiamo un po'... Ehm... Anche noi, ecco. Ci sentiamo un po' toccati in queste e quindi... Diciamo che... Ehm... Ehm... È sempre gradita... Sempre gradito... Un atteggiamento molto... Pagato... E... Soprattutto... Ehm... Civile ed educato, ecco. Ehm... Fortunatamente, sono poche quelle persone che... hanno avuto un atteggiamento non proprio civile o magari hanno utilizzato un linguaggio poco corretto e quindi diciamo che i nostri canali nel caso di questo canale è un canale adatto a tutti quindi non solo a noi diciamo un po' più grandicelli diciamo che da 0 a 300 anni si può tranquillamente entrare nel canale e seguirlo da 0 insomma dai cerchiamo, cerco io come gli altri amici streamer cerchiamo di portare dei contenuti che rispettino prima di tutto quelle che sono quello che è il produrre dei contenuti di qualità e poi ovviamente seguire tutte quelle che sono le regole basiche del del saper vivere e ovviamente senza senza voler ovviamente rispettando le regole del buon vivere del vivere civile ovviamente si rispettano anche le regole di Twitch per cui niente parolacce niente mancanza di rispetto nei confronti di nessuno che sia un moderatore o che sia un un semplice o che sia un follower del canale chiedo scusa e quindi è ben gradita ecco l'educazione fortunatamente ci sono tante tante bravissime persone molto molto educate sono poche quelle lì che si comportano in maniera non proprio corretta io qua mo devo andare a scaricare mi sa eh sì è un po' fuori mano il il luco dove dobbiamo andare a scaricare ma ovviamente bisogna consegnare la merce anzi i prodotti allora vediamo un attimo se posso prendere eventualmente una scorciatoia allora io devo arrivare eh devo arrivare dove è che devo arrivare qui dove è che devo arrivare allora il mulino dovrebbe essere questo no non questo ah ecco qua ah allora faccio la periferica qua ma sì faccio la periferica qua eh è un po' in salita ma arriverremo ad un certo punto che il mezzo farà un po' di fatica a salire accendiamo il nostro bell'ampeggiante eccoci qua possiamo anche attraversare la nostra la nostra proprietà qua ah ho sbagliato a girare adesso creare un po' di passaggio là perché effettivamente non si capisce vero adesso poi la prossima devo girare a testa dai su 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 va la porta quasi quasi vediamo se posso potenziare in mezzo allora vediamo un po' configura no no va bene aspetta vediamo un po' ripara vediamo un po' se mi va meglio il rumore delle cinghie di distribuzione pare che presenta sempre incendiamo il lampeggiante ok quindi adesso dobbiamo prendere la strada a destra e iniziare a salire oh mamma mia ragazzi saranno in brisa dai rendi veloci da su su mi ricordo l'appuntamento con la con la mappa Zappaland che sarà sabato pomeriggio e domenica mattina quindi chi volesse ovviamente sarà il benvenuto e come sempre la regola è quella di essere the follower del canale ovviamente il sabato pomeriggio sarà solo pc mappa Zappaland mentre invece la domenica mattina sarà aperta a tutti quindi in crossplay quindi ovviamente chi vuole può partecipare alla live ovviamente basterà come dice Cayman Lorè seguire il il canale dai su su mamma mamma come è stato friendstore trattura qua devo prendere l'altro stire si 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 crea tanto la fila dietro su 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 dai che ci siamo quasi che poi cambia trattore questo stire qua non va bene prendiamo l'altro stire che dovrebbe essere leggermente un pochettino più sprint uso ok siamo quasi arrivati ok mamma mia ragazzi stiamo proprio l'abbiamo messo veramente sotto stress questo trattore sta lavorando in una condizione veramente di grandissimo stress purtroppo quella strada lì è l'unica strada molto più breve e quindi all'andata in mezzo tende un po' a soffrire allora andiamo un po' allora lato indietro cambiamo lato portello c'è il lato sinistra eccolo qua voglio 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 cambiamo lato tasto se non ricordo male giusto destra ecco qua aspetta ci dobbiamo mettere meglio mettiamoci un po' meglio altrimenti rischiamo di ecco qua risulterebbe un pochettino problematica oh ah 28% ok per un attimo ho detto caspiterina già abbiamo fatto ah oh adesso però dobbiamo assolutamente prendere l'altro stoyer perché questo qui diciamo che fatica un bel po' per il momento diciamo così quindi andiamo un attimo un farm a lasciare questo stoyer e prendiamo l'altro che mi pare che ha 270 cavalli o 220 è una mod ovviamente che la trovate nella mod ufficiale è una mod di super macho king allora andiamo ops mi sta per ribaltare andiamo un attimo in farm lasciamo questo styro qua che soffre un pochettino per quella che riguarda i lavori qua il trasporto di merce abbastanza pesante ed importante e nello stesso tempo andiamo a continuare la nostra sfida eccolo qua prendiamo l'altro styro ok se sei felice tu lo sai batti le mani se sei felice tu lo sai batti le mani se sei felice tu lo sai e mostrammelo se sei felice tu lo sai batti le mani ecco qua con questo qua non dovremmo avere problemi per quel che riguarda potenza o la potenzia ovviamente poi quando arriveremo al 50% inizieremo a svuotare il cassone ovviamente è il 50% anzi il 70% del raccolto ma inizieremo a svuotare il cassone man mano che si riempie perché così almeno potremmo recuperare un po' di sorg e quindi andarle subito a metterla nel nel forno ecco qua alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano e genuinità scegli i prodotti di i piani bio www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook e instagram scusate scusate eccomi qua allora dove eravamo rimasti scusate ancora ok ma allora eccomi qua eccomi qua eccomi qua E' un'altra cosa. Riprendiamo. All I want, all I need is love, love, love is all. All I need. All I need is love, love is all. Oh, guarda, senza volerlo, l'ho fatta a posta. Buongiorno a te. E ben ritrovato. La sto facendo suonare a random, carissimo, super, mega presidentissimo. In questo momento ci troviamo qua nella fattoria dei fratelli Caponi, ma come già anticipato la programmazione, torneremo sabato e domenica. Error 404. Andiamo bene, andiamo Andiamo bene, grande A proposito, ora mi sono scordato di fare Ecco qua E' un bel gg qua, in questo momento Come ti senti, caro? Comunque, a proposito di Ranch, ho pensato pure io di Temporaneamente di sostituirlo, perché In programmazione, perché Diciamo che il grosso è stato fatto Per cui Da settimana prossima, salvo O meglio, da Domani, ecco, molto probabilmente Farò un piccolo cambio di Programma, per il momento solo per Ranch Diciamo che Mi sono, mi sono divertito Però ecco Più o meno le cose da fare sono Grosso modo le stesse Per cui Alla fine Si ritorna sempre Punte da cavo Però Ultimamente ho fatto Ho fatto un po' di cose gourmet In pratica ho notato che Ad esempio Quando fai le salsicce Produci le salsicce Se aggiungi Un uovo Ti pagano Il 10 Ti pagano 10 dollari Al pezzo in più Rispetto al prezzo standard E quindi come è capitato a me Che non avevo fatto la raccolta di uova Per diverso tempo C'avevo praticamente due ceste di Di uova Completamente Stracolme E così ho iniziato a fare Queste cose gourmet E ho notato che pagano Qualcosina in più Deve dire soltanto un pochettino Se aggiungendo qualche altro ingrediente Se aumenta ulteriormente Perché se è così Se funziona sta cosa qua Al limite Si può fare anche nel tuo Alives Si può provare a fare questa A fare questo pastone alternativo Diciamo così Quindi non solo Ingredienti standard Base Ma eventualmente Con l'aggiunta di qualche altro ingrediente Ci permetterà poi di Recuperare qualcosina in più Si Ah beh Quello con il nuovo aggiornamento Dovrebbero Ora Devo rivedere un'altra volta Sul loro Portale Sul loro forum Ma pare che forse Dovrebbe uscire anche Finalmente La possibilità di Poter usare Il fucile Insomma Io avevo proposto Agli sviluppatori Di Permettere anche Svolgere Svolgere delle vere e proprie Missioni Dei contratti Un po' come si fa Sul farmi Che magari Ti possano offrire Un extra in più Insomma Che non sarebbe male La cosa Ottimo Alla fine Alla fine Ho deciso Per quanto riguarda il crossplay Ho deciso E ho pensato Di portare La Zappaland Un farm Rimettere nell'altro Salvataggio E quindi Ci ho provato stamattina Su questa mappa Qua Però diciamo Che non tutti i macchinari Mi ha riportato Nell'altra In questa versione Quella Crossplay Per esempio Avevo acquistato La boot Per Per portare L'acqua Alla serra Però Non me la fa Non me la fa Vedere Però in compenso Diciamo Che i posizionabili Ci stanno Tutti quanti Quindi Mi sono andato A risparmiare Anche La cosa Deve andarmi A vedere La posizione Di dove stavano E quindi Rimettere l'altra volta E quindi ah mi sono scordato di caricarlo questo questo è un altro di quei sound alert devo caricarli eh sì ah però caffè patacca il caffè che spacca esattamente il famosissimo memento di waparunner style oh ci siamo quasi dai stamattina ho fatto un po più tardi perché un attimo solo che lo attivo di scorta arriva in subito dove un attimo solo ok dai puoi venire sul discorso vieni così come stavo di come stavo nella buongiorno 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 presidente monsieur le presidenze buongiorno sto provando la mod di rrrr ottimi che viviamo avanti uno la mod dell'albri da sotto ah l'ho visto in un video mi parli di roby mel se non ricordo male o di midi caccio l'ho visto però questo va bene effettivamente per le mappe prettamente da pc e ci come dicello soprattutto per il multiplayer la porto oggi stasera questo sento briggs stamattina ho visto che stava volando se non ricordo male lui sulla scuola che io poi sono passato a fare un saluto al volo a fern bus ho detto se se fossi riuscito gli avrei fatto i raid stamattina ha risolti i problemi lui non lo so lo sai ma pare l'essio lo fa regolarmente a lui non so se il problema era quello là no problema che gli cresciava proprio ah il multiplayer non glielo ho chiesto lo sai ho detto ma guarda se hai saltato un aggiornamento o qualcosa eh infatti pure io ho detto vedi se eventualmente la console ti permette di fare il ripristino dei file come a noi lo fa fare steam che tante volte può essere pure un file corrotto che lo vai a sistemare e ti funziona sono andato a vedere ieri quello lì che l'ho conosciuto qui da te Ale ah si Ale si quello che porta anche lui i farming porca loga ma è bravo hai sentito la voce? si si no ma a parte la voce ma è proprio bravo cioè è proprio bravo gioca bene cioè gioca dall'interno gioca al vertio stile insomma eh no ho detto ma hai notato una certa assonanza con la voce di un notartista italiano quando parlava? no non c'ho alla mattina c'aveva il microfono spento e alla sera? si il pomeriggio lo seguivo ma considera che c'avevo Boeing molto 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 a volume alto c'evo il figlio vicino a me ah vabbè no allora qualche volta che che puoi sentilo con calma perché potresti dire ma la tua voce assomiglia molto a quella di un noto artista italiano e lui mi risponde eh ma sono io ma sto provando questi alberi ora vediamo un po' quello sempre con il concime mi pare si si fa concime acqua concime acqua o concime acqua o concime acqua non ho capito no 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 80 di acqua però l'acqua non me la carica hm perché non mi scarichi comunque a proposito di mod del mod hub vedi che è uscita una mod dei degli idranti che ti fa prelevare l'acqua gratuitamente si si però io d'altro adesso è tanto su queste mappe prove c'ho 160 milioni c'ho le mappe che c'è proprio lì le mod capito? perciò non mi interessa la mappa francese ma che se proprio vedete dici sicuro che quella francese e qua beh sulla mappa che sta portando stamattina c'hai 170 milioni facci la miseria no io carico un botto dei sordi per ditte perché almeno così ho per il testo per esempio ho sbagliato ho sbagliato la botte via 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 altra botte altra botte anima anima a botte non ci piace intanto poi alla fine sul file xlm puoi sempre ripristinare ma non c'è non è una mappa che tanto porto live capito? ah ok beh per puro spasso per svago diciamo così per puro svago cioè i campi li ho distrutti tutti cioè considera che ho fatto un campo una striscia a patate una striscia a colza una striscia oh buono per provare la seminatrice per provare quello per provare quest'altro insomma no perché boom via però quando il campo lo permette il fatto che tu puoi piantare più di un prodotto è buono perché alla fine nello stesso campo tu se non ti servono quantità particolarmente grosse con quel poco tu magari ci fai mangiare il maialozzo la vaccarezza l'hai provata? l'hai provata? quell'altro? non ancora non ancora perché devo aprirla poi mi devo scaricare beh ci sono diverse mod ti ho detto che stanno tutte nel mod hub giusto quelle mod là ok allora non devi condivide nessun link capito? io il link lo mando da te perché fa prima almeno carichi già ce l'hai tutte quante fatte no? si si ok tanto poi chi entri in partiti multiplayer comunque io ho scaricato ieri si si quello muovente prettamente pc se non ricordo male giusto questo no 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 anche a in cross play ottimo tutto da moda per cross play ah ottimo almeno sì non ci sono problemi per chi vuole giocare da una prova anticipa il tuo giorno ecco le entrate adesso in live alle asso ah lei si ma io non ti devo andare a pranzo sono sotto a posibilità stai facendo la pausa a pranzo? no io sto in quarantena ancora eh dico come ti senti? tuo figlio? io adesso capito il figlio c'è un po' della freddore ma ma niente che lui muovere il video con quel tampone di controllo speriamo che il negativo si ritorna tutti alla vita normale eh sì almeno così uno si svaga pure un pochettino la testa oltre al fatto che comunque la giornata che ti tieni impegnato sembra una cosa buona ma la miseria oh una pianta tiene quanti quintali d'acqua ah eh no eh apricot che cavolo sei cocco cocco 7300 litri d'acqua 2000 litri di cacca e 7000 8000 litri di cose di cacca vai ah però ma quanto tempo ti dura comunque se sei pratico puoi sempre modificare un pochettino i file xlm sì 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 però tanto mi vorrebbe sì da metterci la sistema che mi ha portato 150.000 litri d'acqua eh 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 io penso che una volta in un cassone piccolo piccolo però l'ho fatto così per divertirmi sì ma io sul 17 sul 17 vedete io giocavo sempre solo in single player ma praticamente c'è quelle botticelle che le sono da 2000 litri che le sono da 2200.000 litri 2.000 litri io feci i 25.000 litri anzi 75.000 litri quella da 7500 litri mamma mia pensa che con il goldoni il trattore sul 19 eh con i goldoni quello lì da frutteto mamma mia per tirarla che c'era quello però era forte perché poi tu ti mettevi con la bottellata sembrava piccolo lina sai tu dici vabbè che vuoi che scarica 7000 litri sì 75.000 litri adesso mettiamo un concetto dato a tutti che almeno così vedremo oh ah mi hanno saltato le cilieggie le piante sono tutte uguali eh cilieggio poco un grande niente ah tu hai mai utilizzato la mod della gps sul single player? non mi piace oh perché alla fine la io la metto la metto la metto sul multivray perché c'è dopo a qualcuno che interessa però intanto mi scorda molto dalla sui trattori perciò ah ma non è non è difficile da settare io me lo so scritto su un foglietto di carta ma tu contro di qua contro di là esatto robimel ci ha fatto un tutorial veramente fatto bene infatti io proprio da lui sono andato a il crossplay per dirte però vedo che sta cambiando ogni giorno e esce una versione nuova perciò muo aspetto un po' no gps è sempre la stessa gps il core play invece già sta la ventesima versione ah ah per il crossplay tu dici no allora ma infatti crossplay non la utilizzo per il core play l'operaio per dirvi che ti lavora da solo il mezzo al campo il core play quello di gialla ah si 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 hai ragione si si e crossplay scusi mi volevo dire crossplay no crossplay o courseplay courseplay si quello il programmino che ti si 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 che ti fa la testa cosa e non lo sto ancora utilizzando qua perchè no ho già 20 lezioni perchè secondo me non non ci hanno ancora l'ufficiale capito perchè ho visto nel video di nick che pure l'ha utilizzato però per esempio non è come prima che tu ad esempio il mezzo lo metti a bordo campo e poi e gli dici vai fai due giri di testata e quello lui ti fa tutto da solo no tu devi puntare eh il cursore sul campo in fase di eh di eh preparazione perchè poi diciamo che non essendo stabile preferisco non non andare ad intaccare i salvadaci soprattutto perchè siccome vado in live la maggior parte di questi qua sono tutti in multiplayer evito di perdere c'è ma io la scopo il servo c'è non lo porto live perché non proprio c'è non lo metto proprio perché ho paura dove si spiancica tutto eh non sia mai si corrompe il salvataggio è un problema che uno si dovrebbe andare a fare il backup ogni volta che finisce una partita ma uno non sempre c'è non la volontà ma c'è questa costanza di andare a a niente non a fa niente un conto più lì aiaia acqua luco coluco poco bello niente magari mai aspetta ma andiamo più avanti avanti andiamo avanti bellissimo cocco bello o cocco rito ma che ne so qua produzione cicli 24 a me inattiva ma porca ro niente beh non sapevo che che l'albero c'aveva aveva l'interruttore aiaiai e beh quali interruttore attiva 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 è come l'interruttore ah sì ah sì 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 questo sì quanto non spona niente uguale qua due cocco bello cocco fresco 236 libri dove cavolo stanno? ah la faccia della miseriaccia io ma già sto passato in buone ore eh forza forza comunque in autunno le foglie rimangono sempre verdi comunque appena ho l'occasione devo acquistare il campo 36 qua sulla odd bay home quel campo grosso grosso quello vicino alla farm perché ho visto che si possono fare diverse colture in un solo campo oh carino bruttissimo a vederse però carino ecco la un po' squadraticcio leggermente no no che spona già tutte le cassettine con tutto fatto capito? ah ok però va bene va bene vediamo un po' 2000 litri d'acqua quanto produce? vediamo un po' eh produce una cassetta è un po' è semplice è semplice con 2 miliallitri d'acqua mamma mia ci vuole tanta acqua ma con cime 2 miliallitri 2 miliallitri con cime e tutto lo la lecce 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 che mi ha prodotto lecce pesche arange tutto lo stesso giorno la produce perfetto perfetto non c'è prugne oh questo vanno a decor poi abbiamo le meluzze la meluzza la meluzza l'albicocca la pera però io le frutte ci sono per i chiucci e coccobel 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 questa l'abbiamo provata ora abbiamo caricato anche la mod quella del no voglio sapere i cosi dove i pallet i pallet i pallet eccoli qua bis pallet bis 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 si parla i pallet dei api ah ah perché ho scaricato anche un'altra scatola della produzione dei un'altra produzione miele che secondo me produce meglio che poi diventa sale questo miele dico che vuole no proprio la casetta 20.000 litre in una casetta purtroppo che non fanno fiori che ci metto ok nessuna postazione per pallet disponibile tenta la metto qua rompico io ora vabbè ah perché anche questo ha fatto le api carino le api ne anche questo ha fatto le api ne crociati miele devo mettici dentro ha certamente a questo è più carino perché c'è da mettere ovvio dentro le api io attiva non c'è le api perché è più realistica e qui carico no questa è più bella perfetto questo è più bella alberi da frutto avete tutte sue ok ti invece che mi dici tu qui invece le sponi pallet 150 ma delle portate ok allora dobbiamo andare a comprare le api e la peccata va a comprare compro il bari coso qui e me lo lascia qua giù o dettagli comprare o tre auto da piacce allora adesso prendiamo il camion autoload lo sta accendendo le luci dura messi non è si vale bella belli pichino su 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 e che ne esce la off bergman poi c'è fuori il solco sulla off bergman andrei a lavorarci prettamente allassupro beh quella della mappa italia non posso portare live cioè non posso la potrà portare live ma come single player perchè vedete è due giga e il server non penso me la sopporta dovresti fare una partita come la faccio io in multiplayer non su server cioè creare non so come si dice qua crea partita multiplayer è normale che ho host host è bravo hosting va bene via caricatolo pallet se non lo legamo lo perdemo caricatolo pallet qua andiamo giù per coso bellissimo perché carichi pallet c'è una ruota in più mamma mia figa qui per guardare la ruota mentre finis contro l'acqua allora qua signorino t'ho portato boom bello preso in pieno ce n'era uno solo noi volevamo sapere l'indiriz di come si scarica qua lo sapete delle cose di api comunque sta oppe e roncia quella salita che va verso il mulino per granola quello la in alto che c'è una pendenza assurda me la sono fatta all'andata con lo stair quello piccolino e andava lentamente ma me lo sto facendo con quell'altro che hai comprato tu usato sto 18-20 km orari in salita ed è ottimo c'è qua per portare qua su 24.000 kg qua 24.500 litri o è la pt buongiorno pt buongiorno pt buongiorno tutto il mondo qua andiamo a carica tanto l'arbero della frutta la pt buongiorno la pt buongiorno la pt buongiorno si monti con annette la cui monti con anni dove c'è sempre blu guarda io sono carico di come che si chiama sto materiale ora ti dico si chiama sorgo sorgo c'è pitti che ha chiesto di cosa siamo però in realtà io ho fatto il mio di scambio beh beh forse si in italia centrale lo stabio lo conosco vale a parlare con quelli con i nordici non lo conoscono lo stabio pt ha fatto carico di questo caffè patacca il caffè che si fa il mitico caffè patacca allora ti possiamo salvare e possiamo ad uscire io andiamo a vedere sul servere ecco lo devo caricare quella che uscita no po di giorni fa mostra tutte le mod è uscita qualcosa aspetta incrementa online time no manual combine no io per esempio nemmeno io lo so ecco la vette piace di plati con le serve paese che no ecco no io qua in questo momento sto in discesa pitti va bene lo stesso va bene prettamente in salita c'è la pupazza della vendetrica tutta quanta cantando la strada questa è la famosa curva del bacetto c'è lo scontro frontale fra error sì se va a vedere è poco più avanti là all'altezza di questa casa è tanto in curva o più giù poco più giù no più giù ecco dopo la casa lì il bacetto fra zappa e è chiaro error ma poi io ero un amico zia dico zero niente ovvero il sistema invece veicoli sistemi eo by consista prendiamo la scelta con il veicolo sale veicolo sale sistemi non beve no se c'è il male vedi pure se c'è un po' di beve così vinico il sole eccola qua costiniti casta maris non ho capito che è sta cosa ma tu scarichi le mod a proposito ho messo anche il sussidio per la munica città municipalità altrimenti qua sarei andato un po' un po' così ho chiesto i sussidio perché è parecchie in difficoltà ah ecco ma quella via 350 euro al giorno? no quella di 8600 euro al mese là eh eh sì quello base perché l'altro l'ho utilizzato quello da 8 mila euro però mi serve giusto quel poco per diciamo posizionare qualcosina di particolare hai chiesto il regno di cittadinanza diciamo che non ho voluto eh ma giustamente quello che stiamo guardando ma non c'hai l'indicatore della benzina? esatto questo qui praticamente funziona ad aria compressa e l'hai solto al sedile il tubo? eh sì in realtà questa anche WAPARAN ha provato sta mod e mi chiedeva ma aveva chiesto se l'avrebbe lasciato a piedi ho detto guarda per il momento non mi ha lasciato a piedi e non ho fatto non ho riempito ancora di gasolo infatti fino ad ora fino adesso ho soltanto riparata aveva fatto qualche riparazione al motore così ma giusto per ma non ho capito 20 da rigoli usati ho messo quella mozza ma non mi cambia niente a proposito fammi vedere un attimo cosa trovo di bello qua allora vediamo un po' a landini usati sì sì compra no costo 42 mila euro usando 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 va bene esatto sì pitti cambia olio e anche la cinghia di distribuzione a quanto pare perché il vecchio STEIER quando lo accendevo fischiamo sto notando una moriare del gente su farming impressionante che mi stanno a portare sempre meno e ma tu vedi che è abbastanza lento rispetto al 19 sul 19 ma la maggior parte delle persone come me non è che ci ha mai messo la mod della season quindi è per questo pure che non tutti lo stanno portando più come all'inizio e che più l'enter chiede più tempo e quindi non si può fare non ci si può costruire un impero subito ma occorre organizzarsi quindi una buona organizzazione organizzazione briefing e poi si parte buongiorno scusi lei ha prodotto qualcosa o state qui a passare il tempo come si dice stanno pettinando le bambole si dice così posso stare a caricarmi ma pensavo che pettinavano le bambole allora invece proviamo la fabbrica delle patate fritte che costa tantissimo non so se riuscirò a comprarla mai vedi però quanto ti va a rendere la vendita solo 8 euro a tonnellata non ancora fabbrica costa otto euro a otto erbe fatti un buco presto però mi serve anche lo frandoglio a alle pellici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al cento per cento sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli per noi troverai farro, cicci, lenticchie e farine di farro, cicci e di granulino scegli il vero bio italiano, buono e genuino, scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangiare anch'io, pago anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram grazie pitti per aver fatto suonare lo sponsor però ci hai sentito bassissimo 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 nella live non è che per caso c'hai il volume abbassato ah ma hai ragione qua a me suona palla no no ero su discord adesso perchè prima l'ho sentito sul coso a grazie pitti per aver fatto suonare la pubblicità niente sai quando prendi a cuore una persona e dici voglio aiutare questa persona un amico ecco questo è fatto alla fine questa poi i piani ho avuto il piacere di conoscerlo qua anche se virtualmente però possiamo anche a casa mia nora oppure qua devo dire la verità sono fortunato perché pure qua ha suonato parecchio il file allora ti dico subito i piani 80 80 volte ha suonato soltanto qua con il comando punto esclamativo i piani che poi anche con il sound alert quello la sound alert originale pure ha suonato un bel po di volte grazie pitti diciamo che ha cercato di creare qualcosa è un motto per la sua azienda per far sì che magari ecco un po di pubblicità radiofonica possa mandare farlo conosce un po di più zappa no zappa non è con me è in discord però lui sta dall'altra parte del mondo pare che sta sulla stessa mappa vero a la odd biberon che sto facendo le prove di tutte le morte uscite robare ma su quale campo sta in questo momento ho distrutto adesso in diretta mentre che ero con te ho distrutto il 38 33 è diventato un campo del battaglia perché ho rialzato tutto e non tutto quanto poi c'è solo la casa rimanente è rimasta solo la casa dice vitti e allora fatti trasloco e può darsi ho messo l'alberi da frutto sto a vedere l'alberi da frutto come si comporta si sta preparando alla farm una sua nuova zappa zappa ma no 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 anzi adesso vi saluto pure perché ho fame e buon pranzo e amo fra un poco pure io che le so eh sì fammi con dire off camera il resto del buona treppiatura grazie a tutti voi grazie voi capace che mi trovate in che live a sorpresa le due ah ottimo io solitamente verso le tre più o meno vado o meglio le 15 e 30 vado in lì capace che vuoi così adesso certo se c'è brixia che mi viene con me a caccia ah quindi vai a caccia con il brixia e dice aperta a tutti la farm pitti ti riferisce alla farm la mia no la mia è che è tutta sfornata non c'è manco c'è tutte le culture sfornate c'è un campo un'attrice una striscia una striscia una striscia sta facendo un po di quella dopo quella di stasera aperta per pc per stasera e domani sera aperta a tutti ok ottimo dai e quindi tu in pratica se ho ben capito quando escono le mod le scarichi tutte ho una cartella dove ci sono tutte le mod quelle che mi interessano a più o alle e le provo poi solo se sono decenti roba a queste alberi a frutto sarebbero carine però ci vuole che 5 minuti 2.000 litri di 5 milioni 8 mila litri d'acqua 2.000 litri di deconcima pianta perciò prima devo fare animali prima le mette nato però si è interessante già l'ho caricata alcunque già l'ho creata sul server perciò già la posso già o stasera sentirai cito che per stemmiera perché ci sono le mode nord comunque dice pitti vabbè scrivi su whatsapp file alle 14 se riesco a fare un salto su the hunter a partecipare pt quindi anche tu a fare bang bang oppure a guardare e mo se pricks io c'è mi risponde di parto con questa va bene via o capo dai si si gruppo comunque scrivo qualcosa ha detto a fare bank bank quindi si vuole partecipare anche lui alla live se hai fatto già l'iscrizione apex perché da lì che troviamo apex dove ci sono le api ha detto sì o yes o yes o yes o yes va bene buon brazo a tutti grazie grazie per essere passato il live s ciao ciao e allora approfitto anch'io per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia per voi che state guardando questo video replica qui su twitch la programmazione continua per voi che siete in diretta in questo momento vi aspetto oggi pomeriggio dalle 15 e 30 in poi su eur track simulator 2 con il turbostar di ralph garage per voi che siete in diretta vi chiedo la gentilezza di restare collegati e adesso farò un ride all'amico alle asso alle grazia così facciamo proviamo a far conoscere anche il suo canale allora ci prepariamo e facciamo allora rifacciamo un'altra volta merci beaucoup naturalment us puoi mora e della tribù compagnia allora facciamo così allora facciamo così perfetto allora per voi che state guardando questo video appunto su twitch in replica la programmazione continua per voi che invece siete qui su che state qui in diretta come ho detto prima vi prego di dare un aiuto all'amico alle asso alle grazia e allora io vi ringrazio ancora per la vostra compagnia vi do l'appuntamento ad oggi pomeriggio dalle 15 e 30 in poi grazie ancora pt per essere passato nel canale grazie a alla zappa storta grazie a voi per ancora notta per il sostegno ok direi che ci siamo quasi e allora io mi congedo con il mio solito saluto ben augurante che è stato buono ad oggi ciao a tutti